Ad una settimana dall'attivazione del servizio SOS Pesaro per l'Ucraina, attivato dal Comune della Protezione Civile, l'assessore all'operatività Belloni è intervenuto sul proprio profilo Facebook per fare un primo report sul loro intervento. Questi cinque giorni di attività sono arrivate fino a ieri 256 telefonate ai nostri centralini, 33 richieste di aiuto, 124 mail che hanno avuto tutte quante una risposta, 42 offerte di alloggi e 119 consegni di materiale. Solo ieri 632 kg, quindi un grande lavoro svolto dai volontari e soprattutto grande disponibilità da parte, grande generosità da parte dei cittadini pesaresi. Nel frattempo continuano senza sosta le iniziative di raccolta di indumenti e beni alimentari per il popolo ucraino e dopo le immagini che vi abbiamo mostrato ieri di come la Protezione Civile si sia mobilitata, oggi, a distanza di sette giorni, siamo tornati al parcheggio del San Decenzio. Come martedì scorso, infatti, abbiamo trovato davanti al bar Il Ciclone, il coordinatore degli ambulanti del mercato, raccogliere vestiari e approvvigionamenti. Siamo veramente soddisfattissimi del popolo e della popolazione di Pesaro, degli stessi ambulanti che ci donano tante cose, addirittura nuove, e siamo colpiti soprattutto dalla popolazione che veramente ha un cuore così grande. Donazioni che non andranno solamente agli ucraini che arriveranno a Pesaro, ma anche a tutti quelli che arriveranno in Italia. Ecco, soprattutto adesso in Italia, che stanno arrivando quasi 5.000 ucraini al giorno, sarà, diciamo così, il nostro compito dare questa merce a loro e poi è della merce che andrà anche ai confini. Io avevo un giubbotto ancora bello pesante che non usavo più tanto e quindi l'ho donato insieme a dei maglioni, delle camicie, una sciarpa, insomma un po' di cose. Spero che possa servire a qualcosa, piccolo contributo, quindi se tutti magari lo fanno penso che sia una buona cosa. Ho portato degli indumenti caldi per queste popolazioni che stanno passando un periodo molto disastroso, diciamo, e quindi sperando che li possa essere d'aiuto. Una vicinanza nei loro confronti? Una vicinanza sì, nei loro confronti. Che indumenti ha portato? Ho portato dei maglioni, delle giacche pesanti, delle sciarpe. Aspettiamo tantissima gente, anche martedì prossimo, per la raccolta di indumenti e beni di prima necessità, anche come scatolame alimentare e roba di lunga conservazione. Dalle 8 alle 13 noi siamo qua e vi aspettiamo come solito. Davanti al bar Il Ciclone, qui al mercato di Pesaro. Grazie. Grazie.